Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it quest'oggi parleremo del rendering, che cos'è un rendering, come si fa un rendering in Premiere che differenza c'è tra rendering ed export lo so, nelle scorse lezioni avevo detto che da oggi in poi avremo affrontato l'argomento audio non vi preoccupate, parleremo dell'audio tra un paio di lezioni perché prima ci sono alcune cosine ancora che dobbiamo dire sul funzionamento generale di Adobe Premiere, prima però vi ricordo di venirmi a trovare sul sito internet www.fabioambrosi.it sito dove troverete l'elenco di tutti i tutorial fatti fino ad ora di tutte le lezioni di questo corso di montaggio video con Adobe Premiere e sito dove troverete anche altri tutorial nei prossimi mesi riguardanti Photoshop, After Effects e probabilmente anche Audition ma questo è un argomento che affronteremo nei prossimi mesi prima andiamo avanti con il corso di Premiere vi ricordo anche di iscrivervi a questo canale YouTube per non perdere i prossimi tutorial mettete la spunta su iscrivimi e automaticamente verrete avvisati da YouTube quando usciranno nuovi corsi, nuove lezioni, nuovi tutorial parliamo di rendering, argomento complesso ve lo dico subito, quindi spero di essere chiaro potrei dire qualche fandonia, quindi se qualcuno delle persone che mi sta seguendo vuole fare delle precisazioni liberissimo di farlo tra i commenti il rendering è un argomento se volete anche molto comune perché quando voi giocate ad un videogioco il vostro computer non fa altro che fare un rendering sostanzialmente elabora delle informazioni con dei calcoli complessi per poi produrre delle immagini sul vostro schermo stessa cosa quando i grafici, gli architetti fanno delle illustrazioni particolarmente complesse danno delle informazioni al computer e poi dicono al computer vai, fai i calcoli e fammi vedere l'immagine così come deve essere e come vorrei ecco, l'operazione che svolge il computer di fare dei calcoli complessi per produrre delle immagini in senso generale può chiamarsi rendering, ok? in Premiere anche il rendering viene fatto, il rendering viene fatto ogni qualvolta voi premete la barra spaziatrice per esempio e quando mandate in riproduzione il vostro video, il Premiere, il vostro computer fanno dei calcoli complessi e in tempo reale vi mostrano le clip che voi avete montato non sempre però è possibile riprodurre le clip in tempo reale perché magari voi avete applicato degli effetti video talmente complessi che il tempo per l'elaborazione è maggiore rispetto alla velocità di scorrimento della vostra testina sulla timeline e quindi Premiere potrebbe non riprodurre tutti i fotogrammi in tempo reale o potrebbe non riprodurne nemmeno uno affatto perché magari è talmente tanta l'elaborazione richiesta che Premiere si ferma e inizia ad elaborare voi non vedete nulla sul vostro schermo in questi casi bisogna fare un rendering o meglio bisogna creare delle clip di anteprima che Premiere utilizzerà ogni qualvolta si troverà ad affrontare delle clip particolarmente complesse sostanzialmente per riprodurre in tempo reale la vostra sequenza ipotizziamo che voi avete fatto una clip ci avete messo degli effetti di luce complessi delle sfumature, delle maschere e altre cose che richiederebbero molto tempo di elaborazione al vostro computer se voi fate un rendering sostanzialmente Premiere prende quella clip in altre parole, detta in maniera semplice la esporta in una parte dedicata del vostro computer e ogni qualvolta si troverà a dover riprodurre quella clip invece di rifare i calcoli da capo riutilizzerà quella clip di anteprima esportata ad hoc ecco, in questo senso si può dire che ogni qualvolta voi fate un rendering esportate un'immagine di anteprima una clip di anteprima ma non confondete questa operazione con l'export l'export in realtà in Premiere ma in qualunque software di grafica e di montaggio è un'altra cosa l'export è quando voi prendete la vostra sequenza e dite a Premiere ok, fammi un file che io poi possa condividere con il cliente piuttosto che con i miei amici su Facebook quando fate un rendering in Premiere è vero che lui crea delle clip di anteprima ma queste clip di anteprima non possono essere consegnate al cliente o condivise su Facebook ma sono delle clip che servono a Premiere appunto per permettere di visualizzare la sequenza in tempo reale senza saltare nessun fotogramma questo in generale è che cos'è un rendering e cosa sono le clip di anteprima in Adobe Premiere quando è però che è necessario fare un rendering? perché fare un rendering può richiedere anche diverso tempo anche alcune ore quindi non è sempre la strada giusta da seguire non sempre bisogna renderizzare tutta la sequenza in Adobe Premiere specie se si ha poco tempo e se si vuole ottimizzare il tempo in questo senso per decidere come comportarsi è utile guardare la sequenza e soprattutto queste barre gialle e rosse che compaiono spesso e volentieri sopra i nostri lavori che cosa stanno ad indicare queste linee gialle e rosse? allora la linea gialla è la più comunemente visualizzata sostanzialmente Premiere ci informa che dovrebbe essere in grado di riprodurre senza difficoltà e senza perdere nessun fotogramma la clip sottostante quindi in generale la clip gialla è un'informazione che ti dice Premiere vedi che io la clip che stai visualizzando non la gestisco in maniera nativa quindi non posso garantirti che la riproduzione sarà lineare perché comunque devo fare dei calcoli ma tendenzialmente non dovresti avere problemi questa è l'informazione che ci dà la linea gialla nella sequenza sopra ad alcune clip la linea rossa come invece potete immaginare è totalmente l'opposto ci dice vedi che io la clip che tu stai cercando di riprodurre non riesco a riprodurla in tempo reale sicuramente salterò uno o più fotogrammi io ti consiglio di fare un rendering questa è l'informazione che ci dà Premiere quindi sostanzialmente linee gialle tutto potrebbe andare bene ma non è detto che tutti i fotogrammi vengano visualizzati correttamente linea rossa Premiere ci dice vedi che sicuramente i fotogrammi non verranno visualizzati correttamente e qualche fotogramma potrebbe essere saltato o tutti i fotogrammi potrebbero essere saltati a seconda della complessità dell'immagine ecco queste due tipologie di barre ci indicano sostanzialmente quando fare un rendering e quando non fare un rendering ma come si fa un rendering? come si dice a Premiere renderizzami una clip? bene allora potete innanzitutto inserire un in e un out sulla sequenza per delimitare sostanzialmente la porzione di spazio che voi volete renderizzare magari come vi ho detto non dovete renderizzare tutta la sequenza ma soltanto un pezzettino oppure se non indicate nessun in e nessun out Premiere automaticamente va a renderizzare tutta la sequenza quindi state molto attenti e valutate se inserire un in o un out io per motivi di tempo ovviamente ecco delimiterò una porzione di timeline con un in e con un out quindi voglio renderizzare soltanto questo pezzettino di timeline perfetto dopodiché ho diverse soluzioni da scegliere in realtà ho diverse tipologie di rendering tra cui scegliere vado nel menu sequenza che è il menu che mi interessa per fare dei rendering e guardate subito sotto cosa c'è scritto rendering effetti da attacco stacco rendering da attacco stacco rendering selezione rendering dell'audio e chiaramente elimina file di rendering cosa significa? quale differenza c'è tra queste varie tipologie di rendering? cominciamo dalla prima quando voi dite a Premiere rendering effetti da attacco a stacco notate che la scelta rapida da tastiera è il simpatico invio Premiere non renderizzerà tutta la selezione in maniera indiscriminata ma renderizzerà soltanto quelle clip segnate di rosso ecco io ho allargato un attimino la selezione in maniera tale da inserire anche un pezzettino di timeline gialla e guardate cosa succede se io dico a Premiere rendering effetti da attacco a stacco Premiere comincia ad elaborare vengono fatti dei calcoli ma non di tutto soltanto di questa parte rossa della mia timeline aspettiamo ancora qualche secondo ed ecco qui come potete vedere il verde indica che questa porzione di timeline è stata renderizzata ovvero che non sta leggendo più i file originali di queste singole clip ma sta leggendo un file di anteprima generato ad hoc che non deve essere ricalcolato ogni volta ok questi sono i file di anteprima ok questi sono i file di anteprima le clip di anteprima qui non sta leggendo Premiere i file originali di queste clip ma sta leggendo le clip di anteprima che non necessitano più di rendering perché è stato fatto una volta sola il rendering come vedete la parte gialla non è stata minimamente interessata dal rendering perché perché la funzione rendering effetti da attacco a stacco tasto di scelta rapida invio ecco sostanzialmente ci permette di renderizzare soltanto le clip marcate di rosso che generalmente è quello che noi vogliamo non vogliamo renderizzare proprio tutto tutto ma vogliamo renderizzare solo le clip che veramente Premiere non riesce ad elaborare se però per qualunque motivo voi volete fare un rendering di tutto anche delle clip segnate di giallo c'è la seconda funzione che è il rendering da attacco a stacco quindi non più il rendering solo degli effetti ma il rendering proprio di tutto dall'attacco allo stacco in questo caso viene sempre creata una clip di anteprima però come potete vedere viene creata una clip di anteprima di tutta questa porzione di timeline anche della clip che prima era segnata come giallo lo ripeto quando si fa un rendering in Premiere non si riprende più il file originale sul vostro hard disk ma Premiere fa dei calcoli crea una clip di anteprima e in questa porzione di timeline Premiere utilizza la clip di anteprima vedremo tra un secondo dove va a salvare queste clip di anteprima se però non volete renderizzare da un in a un out ma volete renderizzare solo delle clip particolari tipo questa, questa che è segnata di rosso e anche questa che è segnata di rosso senza mettere un in e un out potete fare sequenza, rendering, selezione e Premiere renderizzerà soltanto una, due e tre clip chiaramente ancora una volta se queste clip fossero gialle Premiere non renderizzerebbe assolutamente niente perché qui stiamo renderizzando solo gli effetti video che necessitano di calcoli particolarmente complessi ecco come avete potuto vedere le clip selezionate sono state renderizzate chiaramente senza inserire un in un out quindi la funzione sequenza, rendering, selezione ci permette di selezionare delle clip e renderizzare solo quelle chiaramente voi potete fare il rendering il rendering anche dell'audio non l'ho detto ma ne parleremo più avanti anche per quanto riguarda l'audio potrebbero esserci dei calcoli complessi da svolgere quindi quello che abbiamo detto per il video assolutamente vale anche per l'audio quindi c'è la possibilità di fare un rendering anche soltanto dell'audio sempre inserendo un in o un out per delimitare la sequenza oppure Premiere renderizzerà tutto l'audio della vostra timeline e poi infine potete scegliere di eliminare i file di rendering o dell'intera collezione diciamo della sequenza oppure dall'attacco allo stacco perché dove finiscono i file di rendering del vostro progetto? andiamo a vederlo ecco questa è la cartella dove è salvato il mio progetto questo è il mio progetto e vedrete la presenza di due cartelle importantissime che sono video preview ed audio preview sono queste le cartelle che utilizza Premiere per salvare le clip di anteprima o audio o video perché non ne abbiamo parlato dell'audio ma ricordo che quello che stiamo dicendo vale anche per quanto riguarda l'audio dentro alle cartelline di anteprima ma Premiere salva le clip di anteprima che poi utilizzerà sostanzialmente per permetterci di visualizzare le immagini in timeline in maniera rapida e veloce potete cancellare per fare spazio sul vostro hard disk queste cartelle con il proprio contenuto state attenti chiaramente di assicurarvi che possiate buttarle via e che abbiate finito di visualizzare la vostra sequenza altrimenti dovrete rifare un rendering da capo oppure potete andare nel menu sequenza e scegliere elimina file di rendering o elimina file di rendering da attacco a stacco per buttare via questo materiale che potrebbe anche essere abbastanza pesante poi più avanti quando parleremo delle funzioni avanzate di Premiere vi mostrerò come in realtà quando create una sequenza voi possiate scegliere che tipologia di clip di anteprima creare ma ne parleremo un'altra volta però sappiate che queste clip di anteprima possono essere abbastanza pesanti e che quindi sapere dove sono salvate e sapere quando e se cancellarle è sicuramente molto molto importante bene, credo di aver detto tutto per il momento per quanto riguarda il rendering nella prossima lezione parleremo di alcune funzioni molto importanti da sapere e da conoscere quando lavorate con Premiere come ad esempio il Match Frame come il Fermo Immagine e altre cosine anche se volete stupide ma che vi posso garantire vi faranno risparmiare molto 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 tempo dopo aver affrontato l'ennesimo argomento sulle funzioni di Premiere parleremo finalmente dell'audio e lì dedicheremo diverso tempo cercherò di andare avanti con le lezioni in maniera costante e rapida ma non posso chiaramente promettervelo cercherò di fare un paio di lezioni a settimana come era mia intenzione ma se ciò non accade abbiate pazienza purtroppo o per fortuna ho diversi impegni quindi cercherò di produrre tutorial per quanto potrò nel maggior numero e nel minor tempo possibile vi invito a commentare questi video tutorial vi chiedo solo la cortesia di commentarli restando fedeli all'argomento della clip che state vedendo in altre parole non mi chiedete cose su progetti vostri o su altre tematiche che non riguardano l'argomento affrontato nella lezione non ho tempo purtroppo per rispondere ai vostri singoli problemi magari più avanti metterò su un servizio no scherzo una form sul sito dove poter poi rispondere con calma alle vostre difficoltà più che altro cercate di rimanere coerenti con gli argomenti che stiamo affrontando anche perché magari il vostro dubbio un vostro dubbio può essere il dubbio anche di qualcun altro che può trarne a suo modo beneficio iscrivetevi a questo canale youtube mi raccomando è importante e venite a trovarmi sul sito www.fabioambrosi.it per il momento grazie mille al prossimo tutorial ciao ciao